e questa parola è la via della conoscenza attraverso attilio m voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail punto com soggetto ma c'è qualcosa dell'amore che non si può denominare se non con un'unica parola che già vi è stata detta che ripetutamente vi è stata qui presentata e questa parola è essere null'altro può essere detto dell'amore se noi parliamo di esso riferendoci alle sue radici profonde ma che significa figli adorati parlare dell'amore in quanto essere significa parlare di qualcosa che non trasmuta non si altera non si rinchiude in sé ma si espande pur continuando a essere sempre se stesso l'essere non è colpito dai problemi non è colpito dalle denominazioni non è colpito dal fatto che ciascuno di voi porta dentro di sé un fardello perché l'amore in quanto essere sta al di là del fardello sta al di là della denominazione sta al di là dei problemi e ha sede laddove non c'è né corpo né sentimento né pensiero laddove c'è soltanto vita